Mettiamo in autostrada, vai. Vabbè, vabbè, qua. Sei? Vai. Sesto. Ora è sette del mattino. Fuori grotta. Fuori grotta. Di parte dove tutto è iniziato. Di parte dove tutto è inizio. La tranquillità di un veterano. Com'era, nobrio? Com'era. Il castiere Mario Claudio. La legata veterana. Siamo tutti pronti, ma come sempre, cosa che ci è mancata in quelli prosinone, anche se ci si è divertiti, lasciamo la conclusione di questo inizio al nostro tutologo, nobrio. Allora, nobrio, cosa hai da dire? Detto Mariano. Settecento chilometri ci aspettano, una seula fede ci accoglierà. Forza Napoli. Aè! 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 Aè!